Una intervista con Lucia Borgonzoni che sarà piena di domande. Ben arrivata a Lucia Borgonzoni, una donna che ama le sfide difficili. Tre anni fa provò a sfidare il sindaco di Bologna, Virginio Merola, e alla fine fu sconfitta ma soltanto al ballottaggio. Oggi ci riprova con una sfida ancora più grande, l'assalto al cielo, l'assalto alla regione rossa per antonomasia. L'Emilia Romagna, vengo subito alla parola d'ordine della sua campagna elettorale. Cambiamento. Ma lei chiede il voto agli emiliani per mandare a casa Stefano Bonaccini o per mandare a casa Giuseppe Conte e il PD? Io per migliorare la mia regione, l'Emilia Romagna, il voto lo chiedo e lo chiedo principalmente per quello. Noi abbiamo una regione che, lo dico sempre, funziona a 6 quando potrebbe funzionare a 10. Per cui il cambiamento è miglioramento. Preferirei che venisse racchiuso nella parola miglioramento perché è una regione che può avere molto di più, dare molto di più. C'è una narrazione della regione Emilia Romagna fuori dall'Emilia Romagna diversa da quello che in realtà è. Ci sono tante cose che non vanno più come un tempo. Diciamo che c'è un'amministrazione che si è molto appoggiata sul fatto che gli emiliano-romagnoli, nonostante anche politiche che siano contro lo sviluppo delle aziende, contro il trasporto, perché noi abbiamo infrastrutture bloccate da non so quanti anni, circa degli anni 90. Adesso di infrastrutture parliamo anche proprio della sua regione e per di più della sua città. Quindi lei mi conferma, è un voto puramente locale, non chiede il voto per lanciare un segnale a chi sta a Roma. Il voto è quello degli emiliano-romagnoli. Poi è ovvio che c'è una questione nazionale, ma questo l'abbiamo visto anche con la manovra. È stata fatta una manovra che sembra fatta da qualcuno che odia l'Emilia Romagna. Una manovra dove le tasse messe, plastica, zucchero, tasse che esistono ancora, perché anche se me le diminuisci un po', e mi dici la manovra la vedrai poi, cioè dopo il voto, comunque quelle tasse arriveranno e vanno a colpire. Un comparto che da una parte ha circa 12.000 persone che ci lavorano, che è quello della plastica, e dall'altra parte poi c'è lo zucchero, pensiamo alla tassa sulle auto. Una serie di tasse che hanno veramente colpito l'Emilia Romagna come regione rispetto a tutte le altre molto di più. Lei dice miglioramento. Non vorrei però che il meglio, come dice il proverbio, fosse nemico del bene. Glielo dico perché lei è emiliana, io sono romagnolo, e un romagnolo molto importante come Raul Casadei, guardi un po' che cosa diceva, non più tardi, di sei anni fa. È un servizio che avevamo girato proprio noi all'aria che tira. Romagna, Romagna mia, lontan da te non si può stare. Bene, grazie. Cosa rappresenta la Lega per lei oggi? Beh, rappresenta un partito che sostiene le basi della propria terra, insomma sostiene la propria gente. È un bel partito, mi sembra che adesso poi sia in evoluzione. Speriamo bene. Allora, così parlava Raul Casadei, l'uomo di Romagna mia cinque anni fa. L'altro giorno invece dice, Salvini è sempre un amico, ma l'Emilia va bene com'è. Io sto con Bonaccini. Come è reagito a questa presa di posizione? Ognuno è libero ovviamente di votare quello che vuole, ci mancherebbe. Lui ha parlato anche ad esempio del turismo. Noi abbiamo una regione che rispetto a dieci anni fa, come turismo, va molto peggio. È una regione che ha dei problemi in tutto l'Appennino. Noi abbiamo tutto l'Appennino che sta morendo di fatto e il turismo dovrebbe essere nevolano. Abbiamo tutta la questione legata alle terme. Abbiamo anche una Romagna che non viaggia come dovrebbe viaggiare. Io sono abitata al meglio, dico solo una cosa, ho fatto il sottosegretario, una mia delega era al cinema. Uno dei problemi maggiori che c'era in questo comparto era quello delle sale, perché stavano chiudendo tutte le sale cinematografiche, sono anche un presidio sociale in molti territori. Abbiamo fatto una serie di provvedimenti, c'è stato l'agosto, con più persone andate nelle sale mai registrato. Per cui io ritengo che quando uno amministra debba fare il meglio, il meglio si può fare. Io penso che la mia regione possa veramente viaggiare a una velocità completamente diversa, che era quella che aveva un tempo e ora non ha più. Allora, dalla Romagna mi voglio spostare alla sua città, Bologna. Stamattina sfogliavo i giornali locali e vedo che il Corriere di Bologna dà questa notizia importante. Ci sono i soldi, Bologna prende il tram. Il governo stanzia mezzo miliardo per costruire la linea 1, che attraverserebbe il centro della sua città e la Lega attacca. Mi stupisce perché voi per le infrastrutture, per la battaglia pro-infrastrutture, addirittura avete fatto cadere il governo nel quale eravate con i 5 Stelle. Le infrastrutture però devono avere un senso, devono avere un'utilità reale per i cittadini, non solamente essere una spesa che magari qualcuno può essere anche felice di questa spesa, perché è l'azienda che fa i lavori, però non servono niente i cittadini. Questa andrebbe a spaccare un intero, è partito con un intero quartiere, però un'intera parte della città con attività commerciali, che inutile che ci raccontino diverso, sentiamo dire, ho sentito dire all'amministrazione, a Firenze hanno fatto una cosa simile, oltre che un orrore, perché se qualcuno esce dalla stazione di Firenze, tutti quegli alberi e piloni che sembrano alberi messi fuori dalla stazione, sono veramente orrendi. Però le attività commerciali lì dopo non riescono più a essere raggiunte. Le persone che abitano lì non riescono più a tornare a casa, perché va bene tutto quello che è il movimento anche dei treni, per me andrebbero aumentate, andrebbero collegate meglio tanti paesi e tante città della nostra regione, però va fatto con un arazio. Se l'arazio è farlo per arrivare a Fico, cioè Italy, che è comunque una cosa costruita sul nostro territorio già in modo sbagliato, non so magari chi lo sente. Diciamo che ha un favore sicuramente a Farinetti, ai bolognesi poco, non a caso, le associazioni di categoria comunque sono completamente contrarie, non è che le attività commerciali che sono lungo l'asse, dove passerà il tram, sono felici del tram. Resto alla sua città e alla sua piazza simbolo, piazza Maggiore, sabato, Bonaccini l'ha riempita, si parla di 10.000 persone, ma quello che più ha stupito tutti i giornali, anche nazionali, è stata la piazza del 14 di novembre, quando in concomitanza con la vostra iniziativa, quella piazza si è riempita di tante sardine. Le preoccupano di più le sardine dell'endorsement di Raul Casadei, che prima era salviniano e adesso sta con Bonaccini? Non mi preoccupa nessuno. Le sardine sono benissimo quando le piazze sono piene, partendo da questo per me è una cosa sempre positiva, perché vuol dire stimolare comunque una discussione. e poi le piazze piene sarebbe bello che passassero da siamo contro o c'è gente, in questo caso noi per loro, che non merita nessuno che le ascolti, a proponiamo qualcosa. Io ho detto anche alle sardine, se avevano delle idee per la miglia romagna, che ero pronta a sedermi a un tavolo, a parlarne, ha fatto così anche il nostro sindaco di Ferrara, però non sono interessate ovviamente a noi, ma perché l'hanno dimostrato poi con la presenza anche del... Cioè lei ha chiesto un incontro con le sardine e hanno detto di no, mentre le sardine aprono le loro piazze a casa Pounda. No, no, non ci calcolano neanche, così l'hanno fatto anche con il sindaco di Ferrara, ma ci sta perché in Emilia Romagna comunque sono tutte di aria e provengono dalla sinistra, ma lo si vedeva da quella famosa piazza che stava citando prima, era una piazza piena di amministratori del PD e della sinistra in generale e poi da altre frange della sinistra che possono essere da potere al popolo o altri. È una piazza per me che dimostra la difficoltà che ha la sinistra tutta a scendere in piazza con le bandiere. Lei non crede, come ha detto Bonaccini qualche giorno fa in un'intervista, che in realtà le sardine hanno risvegliato un popolo e visto che c'è tanto problema con l'astensionismo, le ultime elezioni regionali sappiamo bene come sono andato. Le sardine potrebbero essere più che una spina nel fianco per lei e per la sua corsa. Io penso che sia, come ho detto, una questione interna alla sinistra per cui probabilmente hanno risvegliato dei meccanismi all'interno della sinistra. Non so quanti voteranno Bonaccini, ma l'avrebbero votato comunque, o quanti voteranno magari altri schieramenti appartenenti alla sinistra che correranno, perché ora dobbiamo vedere anche e comunque quanti saranno i candidati a correre. Ovvio che si polarizza molto per una questione che il voto è al primo turno fra me e Bonaccini, rappresentante del Partito Democratico, però ci saranno anche altri. Avrebbe preferito da avversaria avere i 5 Stelle all'interno della coalizione di centro-sinistra, anziché avere un proprio candidato che a quel punto potrebbe rubare qualcosa a voi? No, io più gente comunque porta avanti idee per l'Emilia-Romagna, per me meglio è, per cui va benissimo. E fin dall'inizio avevo detto che per noi non è che cambia con l'alchimia che magari qualcun altro ha fatto, qualcun altro spera, perché voglio ricordare che il PD a oggi è ancora lì comunque a scongiurare il Movimento 5 Stelle di correre assieme che poi dopo corrisponde al voto alle urne. Perché io voglio ricordare che almeno in Emilia-Romagna sicuramente chi ha votato il Movimento 5 Stelle per buona parte è un elettore di sinistra che non ha apprezzato e non voleva la sinistra che governava, per cui credo che anche se gli eletti si possano spostare con Bonaccini e il PD, gli elettori facciano più fatica. Voglio restare ancora un momento sulla piazza delle Sardine, perché lei dice che sono un pezzo, una costola della sinistra. Come si spiega allora che una come Francesca Pascale, che è la fidanzata di Silvio Berlusconi, che rappresenta una visione comunque di centrodestra, invece dice che quelle piazze mi piacciono. Non crede che le Sardine attragano anche un mondo che potrebbe guardare a voi? Visto le dichiarazioni della Pascale per me negli ultimi anni, forse mi avrebbe stupito una dichiarazione in senso opposto, magari che non gli dire che questa piazza non le piaceva. Veniamo a Stefano Bonaccini. Dicevamo che qualche giorno fa ha riempito Piazza Maggiore e ha lanciato da quella un messaggio ben preciso. Lo ascoltiamo e glielo faccio commentare. Ci rivolgeremo a tutti i cittadini nei prossimi 50 giorni, anche a quelli che legittimamente votano 5 Stelle. Ma loro adesso chiedo, non era meglio confrontarsi sui programmi anziché arroccarsi in un isolamento che rischia di isolarvi e rendervi irrilevanti? Davvero noi e i nostri avversari di questa destra siamo uguali? Sarà davvero la stessa cosa se il 26 gennaio sarà presidente Bonaccini o la Borgonzoni? Un appello al voto di ingiunto che è precisamente quello che io ho sentito farvi ieri a Imola, a lei e a Matteo Salvini. Insomma, vi contendete i voti in uscita del Movimento 5 Stelle? Ma oltre che i voti di 5 Stelle spero che la gente guardi i programmi. È vero che non siamo uguali. La regione che noi vogliamo è una regione dove realmente non si usano trucchi per trovare alchimie strane e far tornare le liste d'attesa, ma che la gente che paghi o non paghi venga operata e abbia le visite in tempi simili. Non che se io ho i soldi dopo una settimana vengo operato a una visita, se io non ho i soldi e vado con il pubblico dopo un anno e mezzo se non ancora aspettare la visita. Sì, è una regione completamente diversa. Io non voglio una regione dove nel calcolo, per quanto esista una sentenza del Consiglio di Stato, nel calcolo per avere i servizi disabili e anziani, per cui il servizio notturno, diurno, quelli che gli vengono dati, venga calcolato oltre l'ISEE anche l'assegno di accompagnamento oppure quello che è la pensione di invalidità, che sono, parliamo di 270 euro, parliamo di cifre bassissime. E questo è stato permesso nella regione per una legge regionale, che non ha recepito una sentenza che doveva essere recepita. Sì, siamo due cose diverse su questo. Allora, stiamo alla campagna elettorale, le voglio far vedere, eccolo qua, questo manifesto, domenica 26 gennaio, vota Lega, non crede che le manchi qualcosa in questo manifesto? Però ci sono anche i miei? Allora nei miei che cosa manca? Manca lui? Visto che ci sono appena quelle che sono miei? Però è lei che corre alle elezioni. Allora, però ci saranno anche quelli della Meloni con solo la Meloni. Io voglio ricordare, perché per me in queste elezioni, non so perché si sta creando un'idea un pochino distorta di quello che ci sarà poi. A governare ci sarò io o ci sarà Bonaccini? Però ci saranno dei partiti che ci appoggiano e questi partiti fanno una campagna elettorale. Se i partiti che rappresentano me non hanno paura di andare ai cittadini e metterci la faccia e il simbolo per me è un orgoglio. Se i suoi invece devono cancellare il simbolo il problema è da parte della sinistra, non è da parte nostra. Sta conducendo questa campagna elettorale a fianco di Matteo Salvini e lo rivendica. Le chiedo, Lucia Borgonzoni, qual è il valore aggiunto che lei porta a questa corsa? Io sarei felice però che le TV nazionali quando io faccio le cose da sola senza Matteo Salvini venissero, quelle locali lo fanno, quelle nazionali ovvio che sono molto più interessate anche quando vedo i video in giro passate il pezzo dell'intervento ma giustamente perché è leader nazionale del partito di Salvini e non di quello che dice Borgonzoni. Però il valore aggiunto penso sia comunque nei temi di quello che io dico vado dicendo ho iniziato anche a parlare nel programma elettorale il 14 quando c'è stato il nostro evento. Allora la devo fermare dobbiamo correre in pubblicità restate con noi perché a rientro ancora alcune domande a Lucia Borgonzoni vi aspetto. Non può italiano non può italiano italiano non può non può non può non può candidata della lega del centrodestra in Emilia Romagna parliamo ancora della sua regione ma per parlare di politica nazionale parliamo di questa foto parliamo di Bibiano il partito democratico ha detto che lei dovrebbe scusarsi visto che nel frattempo il sindaco di Bibiano è stato completamente definitivamente scarcerato e liberato da tutte le misure cautelari sì però ancora indagato e ora vedremo insieme a altre 28 persone se ci saranno quando ci saranno i rinvii a giudizio questa è una questione che sui giornali anche in questi giorni abbiamo visto Foti la sospensione di Foti e abbiamo visto comunque che probabilmente quattro bambini che erano stati portati via le famiglie verranno ridati non crede che però su una vicenda così dolorosa così complicata si sia scatenato una campagna mediatica elettorale forse sbagliata troppo strumentale no io quello che ho detto fin dall'inizio ho detto è ovvio che nessuno pensa e ha mai pensato che tutto il partito democratico potesse sapere che cosa succedeva lì perché ci mancherebbe sarebbe da spaventarsi fosse così però noi all'inizio 2018 quando è uscita l'indagine di veleno abbiamo fatto un'interrogazione in regione proprio per chiedere se le stesse persone che operavano da una parte vent'anni fa erano ancora sul nostro territorio se potevano esserci casi simili e lì è stato tutto derubricato e messo in un cassetto a proposito di indagini si torna a parlare dei famosi 49 milioni che la Lega avrebbe sottratto alle casse dello Stato ieri è stato indagato un assessore della giunta lombarda secondo lei c'è un attacco nei riguardi della Lega dal punto di vista giudiziario? è da anni che stanno cercando questi soldi che sono stati spesi per le iniziative politiche che la Lega ha fatto io piena fiducia in Galli che conosco anche è una bravissima persona oltre ad essere un bravissimo assessore allora grazie a Lucia Borgonzoni in bocca al lupo per la sua campagna io mi fermo